Leggerò Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone, edito da Ponte alle Grazie. Questa è la copertina del libro. Questa è una storia autobiografica che narra un fatto di cronaca avvenuto a Roma nel 1965. Una bambina di otto mesi viene abbandonata a Villa Borghese dalla madre biologica che si suiciderà subito dopo nelle acque del Tevere. La bambina verrà subito adottata dalla famiglia Calandrone. Sono figlia di Lucia, bruna mamma biologica, suicida nelle acque del Tevere quando io avevo otto mesi e lei appariva da 29 anni nel teatro umano. Sono figlia di consolazione, bionda madre lettiva, da me fragorosamente delusa. Non sembrano premesse favorevoli a scagionarsi dalla constatazione di essere vivi, ma la vita ci ignora, ignora soprattutto i pregiudizi e l'ovvio. Tutto cicatrizza a nostra insaputa, le ferite si aprono e si chiudono come valve nel fondo del mare della dimenticanza. Gli episodi sommersi lampeggiano, mentre la nostra superficie agisce, compra una giacca di velluto liscio color granata, fa benzina. Mentre scendiamo dall'autobus con le buste della spesa, il mare sotto muove la sua misura gigantesca, manovra le sue leve nell'olio azzurro del tempo e noi in alto splendiamo. E le parole vanno via da noi, semisparsi come costellazioni nell'aria trasparente del mattino. Le parole ricordano tutto, quello che non sappiamo di ricordare, perciò affidiamo loro la memoria, per poi dimenticare ancora e ancora ripassare il raschietto sulla cera dei giorni. E le parole vanno via da noi, dalla cera impassibile dei nostri volti e attivano le leve submarine di altri esseri umani uguali a noi, che splendono talvolta come noi splendiamo, senza saperlo. E tu che leggi, ridi, rovescia il riso la medaglia dell'innominabile. E mettimi di lato, mettimi tra quelli che per sopravvivere sono diventati sensitivi, a causa di un'improvvisa scossa di assestamento delle mura domestiche, ovvero di un'inezia dalle proporzioni colossali. Dopo quel giorno, niente come prima, e il non amato, cioè il non vivo, il mostriciattolo, deve fiutare l'aria, osservare le scariche di temporale che si preparano nell'ombra delle camere da letto. Egli vuole, tutto sommato, continuare a vivere. Sotto i letti, massimamente, le ombre si accumulano in maniera massiva sotto i letti dei bambini non amati. È un umido risucchio catacombale, nel quale fruscia il vuoto artiglio del nulla, pronto a scattare e chiudersi sulle tenere carni. Un vivaio verminoso. Se ti muovi, ti vedono. Ognuno gira nudo e solo sulla ruota siderale degli esposti, tanto più nudo e solo quanto più imbozzolato nella concrezione rasposa delle coperte. Sei abbandonato e solo. Se ti muovi, ti vedono. Il disamore avvolge i letti dei bambini fra le spire di un pianto non pianto. I bambini non amati non piangono. Chi chiamerebbero col loro pianto? Sono caduta nel disamore a quattro anni, quando madre rivelò, io non sono la tua mamma vera. Quella di madre fu una decisione anticipatoria, d'amore ansioso. Aveva letto sul giornale la notizia del suicidio. Un altro che cortocircuito nella mente di madre di una diciottenne che nel predisporre le carte per il proprio matrimonio aveva scoperto di essere stata adottata e si era tolta dalla vita. La ragazza doveva aver sentito sabotate le radici della propria identità. Il futuro che stava fondando in lei valeva meno del passato. Le persone sono strane. A quattro anni non ero probabilmente prossima al matrimonio, ne avevo intenzione di richiedere documentazione alcuna circa la mia propria scendenza. Quello di madre fu uno scrupolo decisamente precoce, ma ho sempre compreso con sincera adesione il conflitto che la indusse in errore. Negli anni settanta i genitori si muovevano secondando la natura della quale disponevano per nascita, più raramente per cultura analitica, e agivano come meglio sapevano agire. In mancanza di istinto parentale o lungimiranza emotiva, non consultavano lo squadrone di psicologi che oggi tende a ispezionare e circondare con cuscinetti di ipotesi e risoluzioni profumatamente pagate, forse solo perciò sollecitando gli auscultati a risolvere le proprie incertezze, i nostri disagi domestici e le oscillazioni nostre. Nella leggenda familiare, tramandata dalla memoria stessa di madre, sembra che io abbia reagito alla notizia gigantesca con maturità esemplare, abbracciando lei vive presente, lei che sola in effetti constatavo con salutare senso pratico e rispondendo che non è importanza, mamma sei tu, un'investitura talmente corretta da suonare in verosimile. Pensai soltanto a sopravvivere, dicendo a madre quel che immaginavo madre volesse sentirsi dire perché lei non avesse a ripudiarmi, o pronunciai quelle parole per lei, gliele dissi per farla felice, oppure madre fu pietosa con sé e ricordò quel che avrebbe voluto sentirsi dire ma che io non le dissi. O era tutto vero, il fatto andò come è stato trascritto dalla memoria di madre e io l'amavo talmente che la sua presenza l'aveva spinta sopra la potenza minatoria di ogni fantasma. Il testo è terminato, spero vi sia piaciuto.